se altri partiti vogliono votare contro il rispetto del pluralismo che comporta tra l'altro che le presidenze delle commissioni parlamentari di garanzia aspettino all'opposizione a cui va anche un terzo degli spazi sulla tv pubblica allora ci mettano la faccia e dicano apertamente no a fratelli d'italia parole e musica della senatrice di fratelli d'italia daniela santanchè che ha rilasciato delle dichiarazioni all'ansa dopo aver avuto un incontro sulla spinosa questione con la presidente del senato elisabetta casellati l'esponente del partito di giorgia meloni si scaglia contro il mancato rispetto degli spazi dedicati all'opposizione nella tv pubblica italiana la prassi infatti vuole che un terzo degli spazi vada riservato generalmente all'informazione sul governo un terzo a quella sulla maggioranza e un terzo alle minoranze ma vedendo i dati dell'osservatorio di pavia e dell'agcom oggi fdi ha una rappresentanza pari al 5 per cento in calza la santanchè quindi le forze di maggioranza hanno tutto il resto degli spazi televisivi cioè siamo al 5 per cento contro il 95 per cento questo non è un regime in ogni caso aggiunto sono passati quasi due mesi da quando il nuovo governo si è insediato e noi abbiamo ancora il 5 per cento di rappresentanza in tv ne si è affrontata la questione delle commissioni di garanzia e un fatto gravissimo